Allora, oggi sono emerse tantissime criticità della problematica del Cotugno che è scoppiata ormai da due anni. Però oggi è una giornata di vittoria, perché oggi dopo due anni siamo stati un'unica scuola, siamo stati Cotugno, perché prima eravamo quelli delle Micarelli, quelli della dottrina cristiana o delle varie sedi, ma oggi siamo stati un'unica popolazione studentesca, tutti quanti uniti, e da qui possiamo ripartire davvero. La verità è che noi non abbiamo una scuola, vogliono ridurre la scuola solo a un banco, una sedia, alla lavagna e al corridoio dove si trovano le classi, come alla Carducci, che hanno veramente solo un corridoio, ma la scuola non è questo, noi lo sappiamo, abbiamo bisogno di laboratori, abbiamo bisogno di un'aula magna, perché dobbiamo far valere il nostro diritto al confronto democratico, con l'assemblea d'istituto proprio, e invece dobbiamo arrabbattarci come possiamo. Questa non è una scuola, però l'unica cosa che manca è proprio l'edificio, perché la scuola immateriale che siamo noi c'è, siamo pronti a fare scuola e oggi l'abbiamo fatta qui, al Parco del Sole, e noi siamo pronti a fare scuola da qualsiasi parte. Grazie.